1 miliardo e 850 milioni di euro di fondi distribuiti e ben 2846 progetti finanziati. Nessuno però che riguardi Battipaglia, rimasta incredibilmente fuori dal decreto di finanziamento del Ministero dell'Interno dedicato alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico. I cinque progetti di Battipaglia infatti sono stati bocciati per non aver compilato il piano dei costi, il quadro economico e l'iter procedurale. Duro il commento del candidato sindaco di Civicamente Maurizio Mirra. La notizia di oggi è che il comune di Battipaglia ha perso l'ennesimo finanziamento. Su una richiesta di 5 milioni di euro, finanziato dal Ministero dell'Interno per un importo complessivo di quasi 2 miliardi di euro, il comune di Battipaglia per pastoie burocratiche e per mancanza della necessaria documentazione non è riuscito a intercettare per l'ennesima volta. Questi finanziamenti avrebbero potuto mettere in sicurezza le strade della città, le parti rocciose e il rischio idrogeologico. Cosa ci fa capire? Ci fa capire che questa amministrazione è come al solito improvvisa. Lo riusciamo a capire perché nelle loro richieste è indicata una somma netta, ossia un milione di euro per ogni progetto. Questo ci fa capire che non è stata fatta una valutazione economica degli interventi da fare e quindi è stata messa una cifra del tutto simbolica. La risposta dell'amministrazione è stata disarmante. Si è difesa questa amministrazione dicendo di non aver avuto il tempo per poter fare un progetto e di aver fatto una richiesta che poteva essere fatta solo in tempi brevi. Questo ci fa capire ancora una volta la mancanza di programmazione, la mancanza di visione e la mancanza di competenze dell'attuale amministrazione. Per questo motivo noi vogliamo mettere in campo delle nuove competenze, competenze valide, di persone che possano far rinascere battipaglia e fare in modo che questi finanziamenti non vengano più persi, soprattutto perché nel prossimo futuro, con Recovery Fund, questi finanziamenti saranno disponibili molto più spesso e saranno dei treni che non potremo più perdere.